Ciao! Ciao! Come è andata oggi? Il gatto è sul tavolo. Elefante, zebra... Ma ti ho chiesto cosa hai fatto oggi? Vuoi vedere cosa c'è nel mio astuccio? Se state imparando l'italiano da un po' con app, libri, video come questi, può darsi che conosciate molte parole, però avete ancora un po' di difficoltà quando si tratta di parlare in italiano. A volte, quando si impara una lingua, si imparano tante liste di parole, come animali, cose in casa, però non ci si concentra su parole che servono in conversazione. Un'ottima tecnica è imparare frasi che si usano spesso in conversazione, quindi come per iniziare una conversazione o durante una conversazione. Quindi in questo video vediamo alcune frasi che serviranno come una scorciatoia per iniziare a parlare in italiano. Iniziamo con la conversazione di base. Anche se già conoscete tante di queste piccole frasi, la cosa importante per queste frasi è arrivare ad essere così abili e a proprio agio con queste frasi da poterle dire senza nemmeno pensarci. Per esempio, di dove sei? Oppure dove vai? Di dove sei? Di dov'è? Curiosità interessante. Per rispondere alla domanda di dove sei, gli italiani tendono a dare la nazionalità. Per esempio, sono inglese. Sono italiano. Non dicono spesso vengo da, vengo dall'Inghilterra. O vengo dall'Italia. Quindi, se volete dirlo in modo naturale, potete dire sempre la vostra nazionalità. Che lavoro fai? Che lavoro fa? Sono in pensione. Sono insegnante. Sono ingegnere. E tante altre. Ci sono tante altre domande che possono essere fatte e che potrete ricevere. Una cosa che può aiutare è pensare a che domanda potrebbe farti qualcuno, pensando quindi già alla risposta. In questo modo, non solo ti alleni a pensare e a parlare, ma la domanda non ti coglierà in preparato. Piccolo annuncio di pubblica utilità. A proposito di avere una conversazione in italiano, le iscrizioni alla nostra scuola online di italiano sono aperte. Ogni giorno inviamo lezioni di italiano basate su storie vere, con spiegazioni grammaticali molto semplici e vocaboli che sono utili in conversazione. Per noi è molto importante la conversazione e ci sono molte opportunità per fare pratica. Una di queste è la chatroom, dove puoi parlare o scrivere in italiano e ricevere feedback dai professori. Poi c'è anche lo speaking club, che sono lezioni dal vivo su Zoom con altri studenti che hanno lo stesso livello, guidate da un insegnante di italiano che vi darà feedback e vi aiuterà ad imparare le cose che vi serveranno in conversazione. Per avere più informazioni riguardo la nostra scuola e l'apertura dei corsi, cliccate il link in descrizione. Il prossimo consiglio è imparare a parlare di argomenti comuni, per esempio come i viaggi. Se vieni in Italia in vacanza, è possibile che le persone ti chiederanno del tuo viaggio, per esempio dove sei stato, dove andrai, qual è il tuo posto preferito, eccetera. Qual è il tuo posto preferito? Oh, Napoli, per forza! Molto bene! Siamo qui da tre giorni, siamo stati una settimana a Venezia, partiamo dopo domani, siamo venuti in nave, è stato un viaggio comodo, siamo venuti in aereo, il viaggio è stato molto breve, siamo venuti in treno, è stato un lungo viaggio. Settimana prossima andremo in Toscana, è stato un viaggio stancante. Altro argomento molto comune è il cibo. Lo stereotipo è vero, gli italiani parlano sempre di cibo, parliamo di cibo prima di mangiare, quando mangiamo, dopo mangiato, nel tempo libero sempre. Diciamo, è uno degli argomenti più gettonati tra di noi. Infatti, se impari come parlare del cibo in italiano, sicuramente farai tanti amici, soprattutto se gli chiedi del cibo della loro regione. Quali sono i piatti tipici della tua regione? Quali sono i piatti tipici della sua regione? Mi puoi suggerire un ristorante buono? Mi puoi suggerire un ristorante buono? Ti piace cucinare? Le piace cucinare? Che tipo di vino ti piace? Che tipo di vino le piace? Matteo, sono gli undici del mattino. Vabbè, ma è per l'episodio! Mi puoi suggerire un buon vino? Mi puoi suggerire un buon vino? Non ne parliamo poi se fai anche dei complimenti su quello che è stato cucinato. Ottima questa burrata! Ottima questa pasta! Ma come hai fatto questa carbonara? Questi tortellini sono fantastici! Mi devi assolutamente dare la ricetta di questa pasta e fagioli. Fantastica! Argomento classicissimo, immagino che sia trasversale per più lingue e nazioni, il tempo. Come al solito, tutta la settimana bel tempo, venerdì piove. Fa freschetto! Brrr, fa un freddo! Sia sabato che domenica, questo weekend pioggia. Questo weekend hanno bel tempo! Fa caldo oggi, eh! Che afa, mamma mia che afa oggi! Speriamo che finisca presto! Un altro problema molto comune quando si cerca di imparare una lingua straniera è quella cosa fastidiosissima in cui finalmente dici una cosa nella lingua e poi ti rispondono in inglese. Classico! Quindi il prossimo consiglio è di imparare alcune frasi per impedire che la gente vi risponda in inglese. Queste frasi sono molto utili per due motivi, sia perché ti aiutano a parlare nella lingua in cui vuoi parlare, in italiano, sia perché tolgo la pressione dalla vostra prestazione in italiano perché dici sto imparando l'italiano. Quindi è assodato che ci saranno degli errori e non ci sono problemi. Sì, la persona che ascolta già si aspetta che voi farete degli errori, quindi c'è meno pressione. Possiamo parlare in italiano, per favore? Vorrei imparare. Sa, vorrei provare a fare questa cosa in italiano. Grazie mille! Ultimo consiglio, imparare tutte quelle frasi che possono essere utili nei momenti di stasi in un discorso nei quali si tende poi a passare in inglese perché c'è una parola che non ricordi, la persona parla troppo velocemente, quindi tutte, diciamo, problematiche che tendono poi a passare il discorso in inglese. Invece, parlando in italiano e gestendo questi piccoli problemi in italiano, si rimane in italiano e si fa più pratica. Come si dice questa parola in italiano? Cosa significa questa frase o questa parola? Puoi ripetere, per favore? Può ripetere, per favore? Matteo, ancora con sto vino? Sono le undici? Sì, ma è sempre per l'episodio! Puoi parlare più lentamente, per favore? Può parlare più lentamente, per favore? C'è la frase non ho capito, ma attenzione, bisogna sempre abbinarla con un'altra frase, per esempio, non ho capito, puoi ripetere, per favore? Altrimenti c'è il rischio che dopo non ho capito si passi in inglese. E voi conoscete altre frasi per fare due o quattro chiacchiere in italiano? Scrivetecile nei commenti! Ciao! Ciao!